Martedì 21 maggio, buon pomeriggio, ancora ben trovati al consueto appuntamento con l'SOS Telebari. Come vedete siamo subito in compagnia del secondo ospite di oggi per parlare di acqua. Il nostro ospite è Vito Palumbo, il responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione dell'Acquadotto Pugliese. Intanto buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a lei e ovviamente a tutti i teleascoltatori. Dunque vi ricordo che per intervenire basta chiamare lo 080 501 9998 e sarete subito collegati con noi. Dunque dottor Palumbo, vi abbiamo invitati perché in tanti ci chiamano per difficoltà di approvvigionamento idrico, in particolar modo da alcune zone della città come Barivecchia. Che cosa succede? Qual è il problema? È un problema strutturale o come voi spesso rispondete è una questione di abitazioni non attrezzate? Vi ringraziamo per questa opportunità che ci avete dato. È la prima volta, quindi siamo una new entry e quindi per questo vi ringraziamo. Sappiamo ovviamente di essere anche oggetto di attenzione da parte dei cittadini perché svolgiamo un servizio importante, fondamentale per il convivere nostro e quindi affrontiamo intanto il primo dei problemi che spesso ci capita di assistere o comunque di dover risolvere. Ovvero capita che a volte in casa non si riceva l'acqua e si chiami l'acquedotto pugliese. Ora, non sempre questo dipende da acquedotto pugliese, ovvero non sempre la responsabilità del fatto che non arrivi l'acqua al rubinetto è di acquedotto pugliese. E mi spiego. Acquedotto pugliese, molti pensano che svolge il servizio fornendo l'acqua fino al rubinetto di casa. Ma in verità non è così a termini di regolamento, nel senso che l'acquedotto pugliese il servizio, tecnicamente e giuridicamente, lo eroga al contatore che è posizionato generalmente al limitare della proprietà privata. Ed è lì che l'acquedotto pugliese fornisce l'acqua. Dopodiché responsabilità del proprietario dell'immobile, ovvero dell'amministratore del condominio, qualora sia di fronte a più unità abitative, quella di portare l'acqua fino al punto più lontano, al punto più alto dello stabile. E quindi qui cominciano i problemi, perché noi siamo obbligati a fornire il servizio al contatore ad una certa pressione, ovviamente. Poi invece la responsabilità è dell'amministratore, del proprietario, per fare sì che l'acqua raggiunga effettivamente tutti i rubinetti e comunque tutti i punti terminali del sistema domestico. Quindi non sempre quando chiama l'utente perché non riceve l'acqua, la responsabilità è dell'acquedotto. Dunque, dottor Paolo, un po' l'interrompo. Ci sono delle zone, per così dire, particolarmente disperate, sotto questo punto di vista. Citavamo Barivecchia, ma anche alcune strade di Carrassi con stabili vecchi. Che cosa possono fare i cittadini a questo punto, oltre a fornirsi strumenti adeguati, quale può essere l'autoclave o strumenti di questo tipo, se magari i cittadini sono infitti? In che modo possono, mi rendo conto che non è prettamente materia vostra, ma devono a questo punto far pressioni sui proprietari degli stabili invece che rivolgersi ad acquedotto? Intanto, per quanto riguarda acquedotto pugliese, noi cerchiamo al meglio di gestire il servizio e quindi anche di migliorare sempre per quanto è possibile la pressione nelle reti, comunque di raggiungere una pressione ottimale nelle reti, in maniera tale che tutti possano godere del servizio che noi offriamo. E per fare questo, ovviamente, effettuiamo tutta una serie di verifiche di campo e di attività che possono in qualche modo rendere le varie zone, in questo caso di Bari, omogene sotto il profilo della pressione. Dopodiché, ovviamente, noi non possiamo che suggerire al fruitore finale, quindi al proprietario, all'amministratore di condominio, di dotarsi di un impianto interno dimensionato ai propri fabbisogni. Questo significa che tutte le case devono avere un autoclave e ove non ci sia la disponibilità anche di spazi, perché mi rendo conto, per esempio, nel centro storico, che è molto difficile poter trovare anche la disponibilità di spazio per ospitare questo genere di installazioni, di opere idrauliche, a questo punto subentrano anche ulteriori accorgimenti, quali piccole pompe di spinta che permettono comunque all'acqua di poter salire fino al serbatoio che è generalmente posizionato magari sui tetti. E quindi, purtroppo, noi possiamo fare poco oltre il contatore, perché non siamo assolutamente nella possibilità di intervenire nelle utenze, nelle reti domestiche. Noi quello che facciamo è cercare di gestire al meglio la rete pubblica e per questo sono anche in corso importanti investimenti proprio sulla città di Bari, per cercare di migliorare quanto più possibile la situazione presso Ares nelle reti. Dunque, 080 501 9998 per intervenire in diretta con noi. Ve lo ricordo, siamo in compagnia di Vito Palumbo, il responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne dell'Acquedotto Pugliese. Sull'investimenti torneremo tra pochissimo, ma visto che parliamo di, immagino, cantieri che si aprono in città, voi quasi quotidianamente, ormai perché i lavori sono tanti, date comunicazione dell'interruzione del servizio in determinate fasce orarie. Talvolta però magari l'acqua viene a mancare, non in coincidenza, all'orario comunicato. Perché succede questo? In effetti gestire il servizio idrico integrato è forse quanto di più complesso e complicato si possa immaginare tra i servizi. Perché quando va via la luce, per esempio, sappiamo che va via una certa ora, quando viene ripristinato il servizio, immediatamente il servizio viene ripristinato anche in casa propria. Purtroppo per l'acqua non è così, perché l'acqua è un fluido che risponde a delle leggi complicatissime. Tra questo ovviamente c'è il fatto della non comprimibilità, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Che quando noi sospendiamo il servizio momentaneamente, non è detto che tutti contemporaneamente non ricevano l'acqua in casa. E questo soprattutto per due motivi. Uno, perché le reti comunque per svuotarsi necessitano di tempo. E due, perché comunque le case dotate di autoclave, quindi di un sistema di approvvigionamento autonomo, continuano ad utilizzare quell'acqua che è nel serbatoio. Per quello noi, al di là di qualche sorrisino, ci premuniamo di dire, di consigliare ai cittadini quando sospendiamo il servizio, attenzione, consumate meno acqua nelle ore in cui è interrotto il servizio. Proprio perché comunque continuano ad utilizzare l'acqua, ma stanno utilizzando una riserva privata che è bene preservare, ovviamente. Preziosissima. In quel caso è veramente prezioso. Parlavamo allora di cantieri. Dicevamo che ci sono degli investimenti in corso. Di che cosa si tratta? Naturalmente sarà difficile entrare nello specifico, quartiere per quartiere, e ci mancherebbe altro. Però in linea di massima servono a potenziare il servizio, presumo, no? Si immagina. C'è un importante intervento che stiamo per avviare su Bari, che permetterà una migliore gestione della rete complessiva ed anche un risparmio considerevole di risorsa, cosa fondamentale. Ho visto il momento e visto anche la penuria di acqua di cui la Puglia purtroppo gode. Quello che noi andremo a fare è distrettualizzare l'abitato di Bari, ovvero fare in modo che Bari possa essere suddivisa proprio in più acquedotti, in maniera tale che quando si interviene, si possa intervenire soltanto su parte dell'abitato e non nell'intero abitato. E quindi questo con assoluto risparmio, oltre che di risorsa, di tempi di intervento e anche di disagi per la popolazione, perché ci sarà possibile quindi intervenire su una singola porzione di abitato e di sospendere il servizio solo in quella porzione di abitato e non, come adesso avviene a volte, con l'esigenza di sospendere invece per tutto l'abitato il servizio. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? 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 Sì, pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Senta, io sto telefonando da Molfette. Sì. Abito in centro, ma piuttosto basso rispetto alla stazione ferroviaria che è più alta. Sì. Però l'acqua non arriva se non al primo piano. Tutti gli altri piani siamo serviti dall'autoclave comune. Il problema è questo che nessuno si fida più di bere un bicchiere d'acqua che arriva al quarto piano o al quinto piano perché passa attraverso le pompe, attraverso l'autoclave e non ci fidiamo di bere quell'acqua. Per cui siamo costati a comprarla. È possibile sperare in un prossimo futuro anche che abbiamo l'acqua direttamente ai nostri rubinetti? Sì, questa è la domanda. Perfetto, grazie. Grazie mille per il suo intervento. È possibile sperare? Intanto, diciamo, io farei un appello anche alla fiducia. È acqua buona quella che beviamo? È assolutamente acqua ottima. Io ho due bambini piccoli, vivo al secondo piano di uno stabile con più unità locative e bevo tranquillamente acqua di rubinetto. Non solo, ma quando vengono ospiti a casa, assolutamente non mi vergogno di portare in tavola una... Beh, questo diciamo ci mancherebbe. Nel senso che il responsabile della comunicazione dell'acqua d'otto deve bere acqua pubblica. Anzi, l'appello adesso è comune anche di tante associazioni. Ci sono movimenti e anche i partiti politici che sostengono l'idea dell'acqua bene comune. Quindi si beve acqua di rubinetto. Mi consenta questa battuta, naturalmente. Adesso rispondiamo seriamente agli spettatori che apposta una questione invece serissima. Ma la fiducia, almeno quella mia personale, quella spero anche dei nostri utenti, clienti, è dovuta tra l'altro a come noi lavoriamo. Acquedotto Pugliese controlla quotidianamente, costantemente, su tutto il territorio servito, l'acqua che distribuisce. Sono oltre 350 mila i controlli annui che vengono effettuati in rete. Siamo dotati anche di un sistema di telecontrollo che ci permette anche in remoto, in tempo reale, in circa 6.000 punti della rete, di monitorare anche alcuni parametri fondamentali della potabilità dell'acqua. Ma detto questo, poi siamo anche fortunati perché ci approvvigioniamo con acque di assoluta qualità, alcune di sorgente. E la nostra acqua, quella mi riferisco a Bario, anche a Molfetta, è addirittura un'acqua oligominerale. Per cui cosa volere di più dalla vita? Però temo che invece il telespettatore non si fidi proprio dell'autoclave. Questo mi è parso di capire, se non ero. Quindi chiedeva, si potrà in futuro fare a meno dell'autoclave? Allora, mi riallaccio a quello che ho detto poc'anzi, che Acquedotto Pugliese gestisce il servizio fino al contatore. Noi quindi gestiamo la rete pubblica, una rete che ovviamente ha determinate caratteristiche e risponde ovviamente anche essa alle leggi della fisica. E quindi è chiaro che oltre determinate pressioni non si possa andare, ma non solo, ma andare oltre determinate pressioni potrebbe essere anche dannoso per lo stesso impianto interno, perché ove noi fornissimo un'acqua ad una pressione di 10 atmosfere, quindi ad una pressione che consentirebbe addirittura l'acqua di andare su fino al 15-20 piano, ovviamente questo provocherebbe la rottura di tutte le tubature delle abitazioni che invece di 15 piani non ne hanno. Dunque, mi pare di capire che insomma il telespettatore dovrà fidarsi, almeno per il momento. Però sì, prendiamo prima un'altra telefonata, poi torniamo su questa questione. Pronto? Buonasera, io voglio chiedere un'informazione. Pronto? Mi sente? Sì, la sentiamo assolutamente. Prego. Volevo dire al signore, io quando, siccome consumo molta acqua, e allora arriva la bolletta dell'idra, però poi viene maggiorata. Voglio sapere perché, esempio, se io pago 80, poi invece pago 60. Io non ho ben capito la domanda, non so se diciamo... Praticamente viene maggiorata la bolletta. Signora, mi scusi, ma lei abita in una abitazione singola oppure... No, no, in un condominio. E allora per il condominio, in effetti, la situazione è diversa. Perché per i condominio noi abbiamo un unico punto in cui viene somministrato il servizio, che è appunto il contatore condominiale. Poi la ripartizione delle spese tra i condomini viene effettuata dall'amministratore di condominio. Quindi questa domanda io le suggerirei di porla al suo amministratore di condominio. Perché sono loro che poi... Ma non ho capito perché deve essere maggiorata. Scusi, io, esempio, consumo 20, come si può dire, di acqua, diciamo, 20, non so... 20 litri al giorno, per esempio. E viene a leggere. È complicata la domanda. Però io pago di più di quei 20, come si dice, metri cubi, non so, come si può dire. Perché, forse, signora, perché vengono ripartite magari anche delle spese di manutenzione dell'impiantistica interna. Però, guardi, ripeto, siccome noi non è nella nostra responsabilità quella di gestire l'impiantistica interna dei condomini, ripeto, il consiglio che le do è di rivolgersi al suo amministratore di condominio... Non all'IDRA? Non a quello che viene a leggere il contatore? Ecco, quello che viene a leggere il contatore non è un operatore di acquedotto pugliese, ma è un operatore incaricato dal suo amministratore di condominio. Per quello, le dicevo, che comunque... Si valga a lui. Sì. Esatto. Grazie, signora, grazie mille per il suo intervento. Mi sembra, diciamo, molto chiaro. Evidentemente qui dovrà consultare il suo amministratore, che potrà dirle, diciamo, con precisione, perché, ecco, il responsabile ci ha spiegato bene che questo non dipende dall'acquedotto. Ma mi pare che volesse terminare la risposta al precedente quesito, posto dal telespettatore, quello dell'autoclave. Mi sembra di averla interrotta, se no non vado errata.